Siamo nella Galleria dell'Evoluzione dei Pesci e in questo momento in fase di riallestimento grazie a un contributo della Fondazione Pisa che in questo periodo di chiusura dell'acquario ci permette di rinnovare la galleria sia dal punto di vista estetico e anche didascalico che per quanto riguarda l'allestimento delle nuove vasche. Il progetto prevede di mantenere su un lato della galleria il percorso evolutivo dei pesci e sull'altro lato verranno invece allestite delle nuove vasche per ambienti in modo da mostrare gli adattamenti dei pesci e la loro convergenza evolutiva nelle diverse parti del mondo messe a confronto.